Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, video fresco fresco subito dopo l'ufficialità di Messi, pallone d'oro 2023, ottavo pallone d'oro, sicuramente di quelli che ha vinto lui, quello più contestato perché stavo leggendo i primi commenti online e ovviamente me lo aspettavo tantissimi tifosi, persone e anche giornalisti si sono scagliati contro questa vittoria dicendo che Haaland probabilmente avrebbe meritato di più, qualcuno addirittura ha detto Mbappé, vi dico subito che questo video non è un dibattito per definire quale sia il giocatore più forte del mondo, visto che ho notato che poi le discussioni finiscono sempre lì, è più forte Messi, è più forte Maradona, è più forte Messi, è più forte Ronaldo, non è questo il video, non sarà un video da fanboy di Messi, semplicemente questo è un video in cui cerco di spiegarvi perché secondo me, nonostante tutto, nonostante si andrà a giocare in America, nonostante Haaland abbia fatto 677 gol, Messi ha meritato di vincere questo pallone d'oro, ovviamente i commenti sono aperti, potete dire la vostra opinione, ma prima, come sempre, guardate il video, buona visione Nell'anno in cui tantissimi tifosi si sono finalmente convinti che Messi sia diventato il giocatore più forte della storia, dopo aver vinto finalmente il suo mondiale con l'argentina, però molti non sono d'accordo che avrebbe meritato il pallone d'oro Questo non è un video, come vi ho detto in un'introduzione, che vuole mettere a confronto giocatori passati, giocatori presenti, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, o chi ne ha più ne metta Però io sono fermamente convinto che questa vittoria sia non meritata, super meritata, per diversi motivi Partiamo con fare una premessa, il pallone d'oro, da anni, forse da sempre, non viene assegnato al giocatore più forte del mondo E voi mi direte, ma sei un imbecille Tante volte è successo, tante volte è così, perché poi l'equazione finisce sempre col portare i giocatori più forti, i giocatori più forti del mondo a giocare in squadre molto forti e a vincere a trofei importanti Quindi capita quasi sempre, non sempre, che il pallone d'oro coincida col fatto che il giocatore che lo vince sia a tutti gli effetti il giocatore più forte del mondo Ma non è sempre così, non è sempre stato così, tante volte in passato non è successo che lo ha vinto il giocatore più forte del mondo Ma quello che premia il pallone d'oro è il protagonista a tutti gli effetti della stagione Per essere protagonisti della stagione non basta essere fortissimi, non basta fare tantissimi gol, ma bisogna arrivare in fondo alle competizioni più importanti e, se possibile, vincere Anzi, è importantissimo vincere Di fatto il pallone d'oro quasi sempre finisce nelle mani di chi perlomeno ha vinto una Champions League E in casi in cui si giochi l'Europeo, la Coppa Sudamericana, il Mondiale, tante volte lo vincono giocatori che si sono contraddistinti con le loro nazionali In questo caso vi dico che, per esempio, secondo me, oggi Messi non è il giocatore più forte del mondo Ma per me oggi il giocatore più forte del mondo si chiama Kylian Mbappé È una mia opinione personale e non è oggettiva, ognuno poi ha il suo preferito I due giocatori, quindi, che si contendevano la vittoria erano Oland per la Champions League alzata col Manchester City La prima Champions League alzata col Manchester City Un trofeo veramente storico a Manchester E Messi per aver riportato la Coppa del Mondo in Argentina Un qualcosa di leggendario Più che straordinario lo definirei leggendario Dico anche un'altra cosa Se il Mondiale si fosse giocato a giugno Cioè non a dicembre, con poi tutta mezza stagione E la Champions League a giugno Ma se il Mondiale si fosse giocato dopo la Champions League E Messi avesse vinto il Mondiale con l'Argentina Dopo la vittoria della Champions League di Ola col Manchester City Io credo che Messi avrebbe vinto questo pallone d'oro No contest, senza neanche discussione Perché poi quello che rimane in testa è sempre l'ultima cosa che accade E oggettivamente il Mondiale ha giocato quasi un anno fa Ha fatto sì che tanti abbiano perso quella magia Che invece abbiamo vissuto tutti quanti a gennaio e febbraio Però, visto che il Mondiale si è giocato a dicembre Visto che la Champions League si è giocata a giugno E visto che le votazioni sono state fatte recentemente E ufficializzate oggi Sono andato a guardarmi quelli che sono i dati Perché molti di voi hanno detto e hanno scritto Messi ha fatto una stagione terribile col Paris Saint Germain Poi si è ripreso un pochino nel Mondiale Non basta per vincere un pallone d'oro Messi ha abituato tutti quanti noi A 15 anni di prestazioni mostruose Di standard altissimi Pertanto le persone quando Messi fa meno di 40-50 gol all'anno Pensano che sia No, beh, ha fatto una stagione brutta Vi faccio vedere qualche dato Visto che sono andato a cercarmeli, a scaricarmeli Questi, per esempio, che state vedendo qua Sono i dati di Messi e Holland Messi l'anno scorso ha fatto 41 gol 26 assist La combinazione è 67 fra gol e assist Holland ha fatto 56 gol Una cifra disumana e 10 assist 66 153 chance create E 44 big chance 25 volte man of the match Dall'altra parte abbiamo 41 chance create da Holland 14 big chance e 11 volte man of the match 11 volte man of the match nonostante abbia fatto 56 gol Qua si vedono nel dettaglio Quindi prima di andare alla prossima slide Che secondo me è fondamentale Messi l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa Ovviamente se tutti hanno mente gli anni In cui faceva 80-90 gol a stagione Non è più quel Messi Ma infatti vi ho detto all'inizio Che non è il giocatore più forte del mondo oggi Ma nonostante abbia 36 anni è riuscito comunque sia A fare tantissimi gol Tantissimi assist E vincere tanti trofei individuali e di squadra Qual è però la ciliegina sulla torta? Perché quello che gli ha permesso di vincere il mondiale Sicuramente non sono i gol che ha fatto in Francia Che ovviamente molti diranno Eh vabbè ma segnare in Francia è facile Ma sono le prestazioni che ha fatto con l'Argentina 5 volte man of the match Su 7 partite del mondiale Se c'era una cosa Che è sempre sempre stata imputata a Messi Sempre da quando ha 20 anni È una sola Ha sempre giocato col Barcellona La squadra più forte del mondo È facile vincere con una squadra così Esci da Barcellona Esci da tua zona di comfort E dimostraci che sai vincere È andata a Parigi Un'altra squadra dove è facilissimo vincere Perché se erano tutti campioni Neymar, Verratti, Marchini Oskineapine, Metta, Mbappé, Messi Non speriamo più come farle giocare di Maria Ma l'Argentina L'Argentina che ha vinto il mondiale Molti non se la ricordano Ve la faccio vedere l'Argentina che ha vinto il mondiale Questa è la formazione dell'Argentina che ha vinto il mondiale Il Dibur Martinez Considerato adesso tra tutti uno dei portieri straordinari 30 anni, 31 adesso Portiere della Stonevilla Una carriera mai al top Diventato un fenomeno al mondiale Molina, ex difensore dell'Udinese Adesso l'Atletico Madrid Otamendi, 35 anni A fine carriera Tagliafico, un altro giocatore Di 30 anni Che non ha mai, mai Giocato in top club Il centrocampo Che adesso fa ridere Perché Enzo Fernandez e McCallister Sono stati pagati tantissimi soldi Provate ad andare a chiedere al Chelsea Se oggi ricomprebbe Enzo Fernandez Per 120 milioni Non sono così sicuro Che gli rispenderebbe 120 milioni Quando la gente mi racconta di Maradona Che ha fatto un miracolo A vincere lo Scudetto con quel Napoli Io guardo questa squadra E non vedo tanta differenza Quello che ha fatto Messi Con questa squadra È qualcosa che si può definire Soltanto in un modo Un miracolo E lui si è preso Sulle spalle di questa squadra L'ha portata a vincere il Mondiale E ha fatto qualcosa di stratosferico D'altra parte Holland sicuramente Ha fatto un'impresa Vincenzo con il Manchester City Portando finalmente la Coppa A Manchester Una Coppa che mancava Che volevano fortemente Da anni e anni e anni Ma il Manchester City Era ed è La squadra più forte del mondo Non vi sto dicendo che è facile Ma di certo non è un miracolo Oltretutto ricordiamoci Che Holland non ha segnato L'anno scorso Né in una semifinale Né in una finale Mai decisivo In queste partite Che hanno deciso le competizioni Che hanno fatto alzare i trofei Holland è un fenomeno Un super fenomeno Nella sua carriera Vincerà probabilmente 4, 5, 6 palloni d'oro E li meriterà tutti Se li contenderanno Lui e Mbappé Che probabilmente Sono il futuro del calcio Ma se devo premiare L'impresa Se devo premiare Quello che è successo L'anno scorso Messi ha fatto Veramente qualcosa Di miracoloso E io credo Che sia anche un premio Alla carriera di un ragazzo Che ha fatto 15 anni A livelli straordinari Stratosferici Chiusi Con la sciliegina Sulla torta del mondiale Che secondo me Merita A tutti gli effetti Un pallone d'oro Questa era ovviamente Una mia opinione Ho cercato di spiegarvi Perché Secondo me Messi meritava Di vincere questo pallone d'oro Voi sottoscrivetemi La vostra opinione Sono sempre aperto A leggere commenti E risponderò Anche a chi Non sarà d'accordo con me Basta che lo facciate Con educazione Noi ci vediamo Come sempre al prossimo video Se non siete iscritti al mio canale E vi piace il calcio Ma soprattutto vi piace l'Inter Iscrivetevi Ciao ragazzi